Episodio 2 del corso di Shopify, adesso vediamo prima i prezzi dell'abbonamento e poi come fare un account per effettivamente poter accedere alla nostra area privata e cominciare a vedere tutto ciò che ci offre. Prima voglio cominciare dai piani perché sì abbiamo la prova gratuita o quello che può cambiare nel tempo potrebbe essere un euro al mese per tre mesi o potreste avere 60 giorni di prova e è irrilevante quello che ci daranno in futuro di prova eccetera. Quello che mi interessa prima è parlare dei piani perché possono essere confusionali se non siete avvezzi a sto tipo di software quindi più abbonamenti eccetera eccetera potreste far fatica a capire cosa sta succedendo. Quindi vediamolo insieme allora lasciate perdere con un attimo prova gratuita poi facciamo l'account insieme. Quello che mi interessa è guardare qua allora pagamento mensile o pagamento annuale? Il discorso è che se pagate mensilmente dopo tre mesi quattro mesi quindi ogni mese si rinnova al quinto mese dite ok basta non lo voglio più rinnovare pazienza quindi lascio perdere il mio sito. Ok molto bene perciò se sapete che volete andare avanti mese per mese per testare per provare o quello che volete andate al pagamento mensile. Se invece sapete già di voler prendere un impegno quanto meno annuale andate a pagare tutto in una volta sola ma risparmiate un quarto perché vi faccio vedere se noi andiamo qua paghiamo 28 euro al mese facciamo per 10 mesi che così facciamo arrotondato 280 euro. Se invece andiamo a pagare 21 euro al mese pagando tutto subito paghiamo 210 euro subito adesso se dovessi fare l'abbonamento ma ripeto noi abbiamo la prova gratuita sarebbero 210 che pago subito se invece dovessi fare il pagamento mensile andrei a pagare 28 euro al mese quindi pago 28 adesso 28 tra un mese 28 tra due mesi fino a quando voglio smettere. Quindi chiaramente se volete prendervi l'impegno e tirare fuori i soldi subito avete lo sconto ok ed è molto meglio fare così se sapete già che lo tenete almeno per un anno andate a prendervi lo sconto assolutamente perché risparmiate 70 80 passa euro quindi niente male. Detto questo ad esempio io per questo corso cosa farò andrò a fare il pagamento mensile perché faccio il corso faccio poi altri altri video come creare e-commerce da zero eccetera però il mio account non è questo lo creo ad hoc perciò spendo i soldi mensilmente ma non prendo l'impegno di un anno se dovessi fare corsi per un anno eccetera andrei a prendere probabilmente l'anno. Non lasciate perdere il mio ragionamento perché voi non comprate Shopify per fare i corsi li comprate per per creare il vostro e-commerce quindi se volete cominciare per prova 28 euro ma adesso non è il momento non preoccupatevi se sapete già che siete seri a riguardo andate assolutamente col pagamento annuale dovete tirar fuori più soldi prima ma siete premiati per questa cosa col fatto che avete un quarto sostanzialmente di sconto. Scendiamo a vedere i piani allora piano basico o basic piano Shopify piano avanzato come potete vedere parte il fatto che qua sostanzialmente più che raddoppia quasi triplica triplica e poi qua altro che triplica abbiamo per 6 sostanzialmente ma la grande differenza sta nelle commissioni per carte di credito vi faccio vedere allora prima scendiamo qua cosa è incluso nel piano basic abbiamo i report di base sul sul nostro e-commerce quindi i dati più essenziali del nostro e-commerce. Chiaramente vedete che è per privati e piccole imprese quindi non è che ci può servire chissà quale reportistica dopodiché abbiamo la versione intermedia che è per piccole imprese e superiori questo direi più per privati e piccolissime imprese poi questo per piccole imprese e poi qua abbiamo medie imprese e aziende di grandi dimensioni quindi vedete che la reportistica report professionali e report personalizzati. chiaramente più è grande la vostra impresa maggiori sono i dati di cui avete bisogno quindi già questo cambia dopodiché avete fino a mille magazzini ma questo è totalmente rilevante non sapete ancora cos'è però tanto è uguale per tutti e poi avete gli account staff. e cosa succede che molto probabilmente se non siete da soli in questo caso privati ma se siete di più persone poniamo il caso che io ho il mio e-commerce di saponi io potrei avere dei dipendenti potrei avere dei collaboratori questi collaboratori svolgono magari funzioni diverse da me. io mi occupo di guardare i dati qualcun altro si occupa di inserire i prodotti qualcun altro si occupa di modificare il sito capite che ogni persona deve poter accedere dal proprio computer e dobbiamo lavorare in concomitanza quindi allo stesso tempo magari io sto guardando i dati qualcuno modifica la home page del sito qualcuno carica nuovi prodotti qualcuno crea gli sconti eccetera. capite bene che servono account diversi quindi ognuno ha il proprio account vedete qua accedi e possiamo collegare gli account al nostro sito quindi posso dire tizio caio sempronio vi collego al mio sito potete aiutarmi a gestirlo questi sono gli account staff sostanzialmente quante persone possono aiutarci a lavorare sul nostro e-commerce va bene? quindi questo è quanto andiamo sopra e abbiamo le commissioni perché? perché non penserete davvero che pagare sostanzialmente 200 280 euro quello che è cominciamo dal basic sia abbastanza per un servizio del genere shopify guadagna molto da cosa? dalle commissioni per carte di credito quindi ogni volta che voi vendete shopify prende una piccola parte e ci sta perché? perché il servizio che offrono è veramente massivo io ve lo dico magari da persone che non programmano potreste storcia il naso eh cavolo ma spendo già 300 euro all'anno e poi devo anche pagare su ogni commissione tot centesimi eccetera eccetera sappiate che il costo che voi pagate all'anno di solo di abbonamento non fate alzare veramente neanche un programmatore provate a chiedere in giro provate a chiedere di farvi degli e-commerce non si alzano nemmeno per forse vi fanno la prima chiamata di consulenza per 300 euro perché un e-commerce parte da 30.000 euro 40.000 euro quindi potete capire come queste cifre su shopify le raggiungerete chiaramente in base ai volumi in anni a meno che vendete 6 milioni di euro al primo anno è molto improbabile che gli lascerete giù così tanti soldi ok? quindi non storcete il naso su sta cosa se chiaramente siete all'inizio non avete mai venduto niente la vostra prima volta magari 300 euro può essere posso capire siete ragazzi siete giovani eccetera ci sta se in realtà però dovete fare vero business sono costi di fare business costa comunque meno che andare ad affittare uno spazio in centro in periferia e avere tutti per me costa comunque meno online che avere il negozio e non avete problemi di sicurezza non avete problemi del fatto che non potete stare aperti 24 ore su 24 perché questo è praticamente online potete vendere in contemporanea su facebook instagram eccetera quindi veramente ve lo dico non fatevi spaventare dai costi certo se partite da zero dovete tener conto dei costi ma se volete far sul serio shopify per il servizio che offre ripeto per il servizio che offre e ve lo dico la persona che fa e-commerce a mano è qualcosa di incredibile è veramente a basso costo quindi potete vedere come andando avanti vedete andando avanti le commissioni si abbassano avrete sempre commissioni avrete sempre commissioni forse le cose cambiano per aziende di veramente grandi dimensioni che hanno roba personalizzata però li dovete essere veramente veramente grandi e niente come potete vedere i primi tre mesi a un euro al mese quindi al momento della registrazione se approfittate dell'offerta un euro al mese scendiamo eventualmente ci sono più funzionalità i report le avevano già visti tariffe di spedizione calcolate da terze parti vabbè queste cose qua si possono usare delle app non è un problema sostanzialmente non c'è molta differenza le grandi differenze abbiamo la possibilità di chiedere il post extra eventualmente e poi dazzi imposte sulle importazioni in realtà le differenze sostanziali sono le commissioni che è pagata Shopify questo è quanto e poi i tipi di report e lo staff le altre cose sono quasi essenzialmente identiche dopodiché ci sarebbe Shopify starter che però è un'altra cosa e ne parliamo a parte quindi andiamo sopra è il momento di fare l'account io vi chiedo un piacere che è appunto quello di passare su Shopify tramite il mio link sotto in descrizione è il link affiliato Shopify se mando le persone tramite il link mi riconosce una commissione per aver portato le persone sul prodotto beh che ci sareste andate lo stesso però sostanzialmente mi permette avendo le commissioni affiliate di Shopify di reinvestire tutto quello che prendo in corsi di Shopify come vedete per farvi vedere queste cose devo fare anche io gli abbonamenti eccetera se mi aiutate a sostenere il canale passando al link a voi non cambia niente non tirate fuori un euro semplicemente Shopify mi dice grazie mille ecco qua e io poi tutto quello che prendo lo rimetto per farvi corsi comprare i temi eccetera eccetera passata questa cosa qua andiamo su inizia la prova gratuita inseriamo l'email e cominciamo una volta che avete fatto inizia la prova gratuita siamo qua e iniziamo quale di queste opzioni ti descrive meglio allora sono agli inizi vendo già online o di persona possiamo saltare in realtà se volete potete fare come volete io lo faccio per farvelo vedere se volete saltare non è un problema sono agli inizi vado avanti dove ti piacerebbe vendere io voglio vendere su un negozio online e possiamo andare avanti potreste aggiungere social media eccetera questa parte qua in realtà non vi riguarda più di tanto sono solo dati aggiuntivi di Shopify cosa intendi vendere per iniziare facciamo deciderò più tardi andiamo con avanti dove avrà la serie il tuo negozio noi siamo in Italia almeno che mi seguiate da altri paesi facciamo avanti adesso ci chiederà di creare un account Shopify quindi facciamo iscriviti con l'email non vorrei usare Google Facebook o altro perciò iscriviti con l'email mettiamo la password la mia mail è chiaramente nascosta per questioni di privacy quindi facciamo così perfetto adesso siamo dentro e ci chiederà di creare il nostro negozio andiamo a crearlo sta creando il mio e-commerce adesso come vedete siamo dentro ho il periodo di prova come potete vedere di tre giorni molto bene con questo account e poi posso andare a selezionare un piano molto probabilmente voi dovreste avere esattamente la stessa cosa quindi cerchiamo di fare alla svelta perché dobbiamo mostrare un po' di roba direi che possiamo andare al prossimo video dove guardiamo quella che è tutta l'interfaccia che abbiamo a disposizione poi entreremo nei vari punti ci vediamo tra poco